buona se allora tendenzialmente don't think about it too much and slay a few beasts giusto? buca vai allura che dobbia... ti ho dimenticato i tasti dio madonna aspetta va che volevi? signore allora capiamo qua stiamo facendo un demone capra praticamente allora bravo oppla questo non doveva succedere cominciamo bene allora il discorso è questo prima via quelli piccoli demone capra demone toro che dirsi voglia puttane branco di troie allora aspetta bravo che calore tu puoi ne mani madonna postia aspetta 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 ma non t'avevo visto stai qua eh hai ragione hai ragione aspetta beh 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 allora ci deve essere una maniera migliore ci deve essere eh dio madonna eh dio madonna oh bravo eh eh oh aspet aspet aaaah ma cristo tu niente allora nel senso che la tattica è decisamente quella devo solo minchia serve un arco oppure oppure dio tasto oppure visto che no ma stai scherzando stai scherzando cerchi di giocare dark souls con i tasti di horizon e succede la madonna dicevo che tendenzialmente eh no eh non già stato visto eh però raga è impossibile però magari se non mi vede il gigante dicevi allora servirebbe proprio l'arco allora allora se il discorso qua era raga devi scegliere samurai e basta aspetta 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 bravo ora se potessi dare un colpo anche su qua eh porco il giro ragino adesso stiamo esagerando vieni di qua di qua di qua di qua grande mio fratello va bene ma no ma se n'è ancora uno ma cristo raga basta allora no dio life goes on nonne 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 no no nooo hai ragione hai ragione hai ragione allora allora qua colpisci tua madre colpisci ma serio colpisci qua colpisci qua ok ok porco non avevo preso le anime raga bisogna cominciare a comportarsi con professionalità forse aspetta grande ora ne rimangono 3 di qua ce l'ho sopra imami aspetta 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 raga porco devo farti un questo devo fartelo aspetta eeeh volevi ma ste barricate da quando stai fermo ma cristo cattivo aspetta aspetta allora se ti giri di qua ce ne son due che boom bitch e niente però zio tanto io ti passo sotto il cazzo tan 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 qua eeeh invisibility frames eeeh invisibility frames eeeh 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 hai ragione hai ragione che porco lo so allora vieni qua allora posso targettare gli arti eeeh 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 indovina che si è rotto il cazzo eeeh 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 fa parei con che criterio sto livellando? ahahahahah nessuno cazzo di domande allora qua serve un attimo fare un po' di di grinding no vabbè ma dai ma dai cazzo di back step di merda che non entrano non c'è un segreto bestiale in sto villaggio Dio eeeh 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 niente ma non c'è modo cosa mi droppi? uh cosa ho visto? ho visto una roba figa eh? frammento di rovina non so spiegarti la quantità di cazzo che non me ne frega pepepepe petta sta eeeh però scala su forza D esattamente ah è uguale è uguale ma è più debole non sto capendo 115 più 10 108 più 11 che ha lo stesso moveset della mazza vabbè proviamo che dobbiamo fare vediamo qua dice un monumento oz che ci dobbiamo fare questo monumento oz postia che merda st'arma pa 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 allora no mi sono intrappolato aspetta aspetta cino voglio una lancia voglio una lancia ma quanti cazzo siete? eh volevi eh spè eh no ehm no allora stiamo 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 un poco calmi ok eeeh che move da pro player eeeh tac volevi pa 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 uh ancora hai ragione hai proprio ragione ok quindi roll avanti e roll indietro si può fare l'affondo Gesù cos'è? ah aspetta se carico in qua posso fare di qua è bestiale scusate no scusate stavo provando un attimo vieni qua non dovresti usare quel martello è una merda io questa torcia ve le infilo su per il culo così a questa maniera cos'è? ad ogni modo viva tua madre allora raga però qua non puoi veramente passare da 60 a 30 ma ne ha a parte che 60 non so se li ho mai visti oggettivamente vieni i coglioni ah vieni i coglioni raga allora ea 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 ah ah mappa sepolcridez tanta roba e quindi guarda guarda che schifo guarda che merda favorisci prestazioni favorisci dita nel culo ma favorisci motion sickness oh ho un lato sbagliato eh dio madonna eeeh scusate il cazzo ho finito le fiale ah vieni qua ma quanto si boh ancora qualcuno c'ha una chiamata chiami i cugini di zii chiamate un po' madre aspetta aspetta vada aspetta vada aspetta vieni vai eeeh vabbè doveva proprio andare così diciamo che comunque tendenzialmente cosa dovevamo trovare qua l'abbiamo trovato ora sarebbe interessante recuperare le rune e andare ad un'altra parte perché qua io di stare proprio solo a livellare erba con l'h devastante raga vorrei poter dire che è stato un piacere ma no ah ci sono dei cani mi state ancora seguendo dai ma fatti i cazzi tuoi io sto andando a farmi i cazzi miei per favore sono nudo eh no bravi allora ne sento che i vestiti non me ne aveva droppati ma aveva droppato forse una ma io avevo visto una roba in più tra l'altro tra l'altro com'era? no no eeeh oh ha 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 cosa fai via come il vento perchè? what cosa ho schiacciato per scendere? oh oh ah quadrato quadrato scende tutto chiaro va bene posso anche raccogliere mentre sono in groppa devastante però ho trovato la mappa di di sepolcrige ovest raga odia gal io dove? chiesa di elle mi sono svegliato qua no? catatrombe di passo tempesta che ci proveremo poi e va bene queste sono le porte del castello mi manca tutta questa parte qua io dove sono? questo qui? è così nooo vabbè andiamo qui cosa ho visto? voglio andare qui e ci vado a 30 frame al secondo un cavaliere? ma dai però raga cioè abbiamo dei comandi un po' di merda eh diciamo la verità buona se eh oh oh ma che cazzo di attacchi fai? allora posso dire che il combattimento a cavallo già mi fa schifo barra che merda che merda no raga da qua porca madre ah ma questo è il cimitero di coso ho visto eh su tik tok eh bom via 10 frame cimitero di miura questo qua raga godric laureo godric laureo l'umiliato ha segna ha assaggiato la con la dio godric laureo l'umiliato ha assaggiato la sconfitta della spada di michella ora genuflesso implora più tanta roba raga godric il genuflesso però sai cos'altro sono tanta roba le rune dove sono? aaaaaaaaa eccole qua quello li lascio da farsi i cazzi suoi no 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 allora io voglio eh no io non ho parole ah eccolo lì forse quello che sto cercando stai fermo un momento dio io voglio vedere sto cazzo di coso usa il telescopio occhio di falco usa il telescopio occhio di falco sparsi in diverse aree per scrutare l'orizzonte dai allora la è il punto di partenza la e dove stavo bestemmiando cristo ah che bellino aaaah ma guarda che vastità però minchia io devo andare fino lassù no no raga eh sì sì bello è bello un bel wallpaper per carità non capisco però a questo punto davvero la differenza albero madre albero gigante e di albero grande grande io uno ne vedo sarà l'albero madre tendenzialmente allora allora sono sulla strada giusta vediamo se devo muo- non mi ricordo se ho recuperato le anime guarda guarda che schifo i pop up qua i caricami raga ma dai ma dai stiamo calmi io voglio capire questo ok aggiungere abilità ceneri di guerra con un coltello di affinatura per conferire un abilità agli armamenti ogni armamento può avere una sola abilità aggiungere affinità nuovo di grazia per rifondere affinità questo procedimento permette di modificare l'affinità offensiva ok più avanti servirà cavallo eh l'ho visto però raga mi avete scassato il cazzo voi i cavalieri ah perché giustamente di qua a parte che c'è Cristo lì sotto ma poi se cado muoio ahhh eeeh messera è arrivato il momento No, 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 ehi, volevi Guarda che fa proprio cagare Il combattimento di questa parte, ma fa proprio cagarissimo Non c'ho voglia, raga, mi avete rotto il cazzo C'è un dito nel culo il combattimento a cavallo Allora, là stiamo crocifrigendo un cristiano, lo vedo Voglio andare a vedere Che succede qua sopra? Boh, qua facciamo ancora le cose bestiali Altri due giganti della Madonna Nemici? Nemici Cosa? Perché? Ah, a cazzotti Geniale Quanti? Yeah Sempre in fastro E niente Cioè ci fanno cagare i... Cos'è? Eh, boh, muori Zampa di gallini in salamoglie dorata Zampa di uccello a quattro dita Trattata in una soluzione medicinale dorata Oggetto da creazione Incrementa brevemente le rune ottenute dai nemici sconfitti Ok Ok Vabbè Ehm, va bene Dove sono finito? Ok Di qua c'è tipo il mar... Mar morto Vai giù Vai giù O semplicemente non è stato mappato Capiamo Ah, buonasera Aspetti che arri... No, qua chiaramente non ci si può andare No Non è detto Non è detto Ciao Ciao Ma che cazzo I tried but Gesù Cristo Cosa ho visto? Allora Sare... Esatto Me lo aspettavo Sarebbe interessante trovare prima Un salvataggio Perché Diversamente Giustamente Punto di sosta in rovina Ebbene Se è un punto di sosta raga Ah Ma sarà dove c'è quello? Devo scassare il cazzo Vittura Sembra il caso Ma che cazzo Eh Ma vaffanculo Sarebbe interessante capire se devo andare Se dove ci sono i raggi Ci sono le... Ma cosa cazzo sto vedendo? Ci sono le grazie Ah ma questi sono altri ceneri bestiali della madonna Nooo Cosa? Scusa Ah E allora che cazzo me ne faccio? Vaffanculo Ho sprecato Servirebbe Un riposo qua Una Che simpi Non siete cattivi Vero? Se io non attacco voi Vabbè Raga Sei cercata Nel senso E a sto punto ammazzo anche i tuoi amici Eh raga È andata così Allora lì cocco Aspetta Aspetta E ancora qualcuno? Mi tarda da da Mi tarda da da Via Dieci frame Non è un problema Lo droppi Ops Sottili No ma sto lupo Ma Ma Poi Raga A me spiace Perché spiace Però Passo Miringhiate Questo è un altro nemico Buongiorno Capito Lì che cammina Passa uno E lo picchia Esploriamo per di qua Io A una certa Non so C'è una tromba Tromba dei giganti Qui E la madonna Oh Voglio vedere cosa c'è qui Sketch di luce stellare Vabbè E allora Prova a farlo Io potrei anche sbagliarmi Perché potrei sbagliare Però Io in questo momento Più che una mappa piena di Pulla cosmica lo sto vedendo Per dire Ma chi cazzo è Vaffanculo Ah ma torrente ha una vita Pazzesco La mappa Non si può aprire Se c'è torrente Porca pittana Guarda che fare un gioco Così di merda Bisogna impegnarsi Poi non ho più trovato Una grazia che sia una Quindi io morissi E' andata così Da la cagata Vediamo che minchia è sto buco Orca pittana Ok 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 Galera eterna Del limiere a lacre E' una galera eterna A sto punto E' boh niente Questa praticamente E' una boss fight Che io non sarei in grado di Porca pittana Adesso mi son rotto il cazzo Che io non sarei in grado di Su Coglione